Sai bene quelli che stai condonando, c'è un solito ammasso in forme allo start, ma questa volta c'è la distanza per cui il Diego è invalidato. Calico dunque il terzo segnale, all'avanguardia Oregon-Mick, sbagli che entrano in piegata, Oregon-Mick che è scavalcato all'esterno dell'Overside, mentre sbaglia Oregon-Mick squalificato, è così cucita dalla piegata con Master P6C, che è in vantaggio nei confronti di un Valor, però c'è all'esterno il favorito Gregomar, e allora passa in vantaggio Gregomar. Gregomar ha arrivato Master P6C, partito veloce dalla seconda pila, ma a questo punto in seconda posizione, in realtà c'è Nupalor, poi Orrera e Sergoni in fuori dal dietro, quindi il gruppo chiuso da Nadia Cam, che è alle spalle di Southwind, Samurai, che dunque ha recuperato la penalità, quantomeno la rivale gli è alle spalle. Completata la curva, si va di pronta per andare a completare il primo giro, che all'avanguardia c'è Gregomar, in seconda posizione Master P6C, terzo in fuori c'è Orvieto, poi all'esterno anche Nello del Sile, completato il primo giro sul piede del 18 abbondante, con Gregomar che fa andatura, Gregomar che continua al comando, in seconda posizione, il numero 3 Orvieto, poi Master P6C con il fuori in mello del Sile, quindi ancora Nuvoloro con Arato, Mosaferma, Gregomar all'avanguardia, avanti ad Orvieto, passaggio davanti alle tribune, sempre in vantaggio Gregomar, nella sua scea resta Master P6C, in figlia vicino a Orvieto, poi il gruppo in Pariglia, ora allungo la corda R-S, il guarniello del Sile, poi all'esterno Mosaferma, quindi all'esterno anche Marias, che si trascina Linus a Bip, in coda Nadyakam e Southwind Samurai, piccine, sempre Gregomar al comando, si va per completare il secondo giro, e allora Gregomar al comando, Orvieto che preme al suo esterno, lungo la corda, sempre Master P6C, poi Nello del Sile all'esterno, nessuno che muove dal gruppo, sembra esserci lo scatto di Linus a Bip, perché trova però l'anticipo di Marias, avanti a Marias, nel giro finale, intanto Gregomar al comando, Orvieto che ha ceduto, continua la professione di Marias, in seconda c'è ancora Master P6C, poi recupera all'argo anche Linus a Bip, e così si entra addirittura con Gregomar che allunga avanti a Master P6C, poi recupera per mini interne Orvieto e al centropista lo scatto di Nello del Sile, nel finale Gregomar conclude su Master P6C, Orvieto, Nouvellore, e Mostra P6C, Orvieto, Nouvellore,